Tutte le cose che consumiamo ogni giorno è aumentato. Lei ha fatto un po' di scorte? Sì, ho fatto. Ho preso pasta, olio di girasole, riso, queste cose, un po' così, pannolini perché ho un nipote piccolo. Di farine, pasta, quelle cose lì, fanno incetta. Lei non ha fatto scorte? No, no. L'unica scorta che potrei fare è, se continuo a aumentare così, andare a prendere barili di benzina, perché quello sì, quella è un'assurdità, comunque anche quella è tutta speculazione. Sì, l'ho notato, ho anche sentito persone che hanno fatto scorta di olio, di semi. Da qualche giorno, infatti, in alcune catene di supermercati compaiono indicazioni sul tetto di acquisto di alcuni prodotti, in primis l'olio di semi. Massimo due bottiglie, onde evitare l'onda di accaparramenti. Complice l'aumento dei prezzi, i carburanti alle stelle, il timore di eventuali scioperi, al momento scongiurato, quello degli autotrasportatori, e il possibile effetto domino su prodotti importati dall'Ucraina, essendo uno dei maggiori produttori di mais. Si sente il problema e abbiamo la mancanza delle materie prime. Questo è dovuto sicuramente all'aumento dei prezzi, compreso quello del carburante, che va a incidere sull'economia italiana in maniera molto forte. Circa l'80% delle merci sono trasportate su gomma. Quindi questo aumento va a incidere sicuramente per l'aumento di tutti i costi e anche per la riduzione di prodotti nei negozi e nei supermercati. Questo ci preoccupa molto. Sappiamo che nell'ultimo periodo c'è stato un aumento dal 2020 ad oggi del 620% dell'energia. Nell'ultimo bimestre solo circa del 135% che si è tramutato su un aumento delle bollette. Tutto questo fa capire la difficoltà che stiamo affrontando. Quindi bisognerà fare un intervento molto mirato per evitare la chiusura o la mancanza di prodotti nei negozi.